Ecco, allora, vediamo. Adesso l'hai capito? Mo' è arrivato il caffè, lo possiamo fare, sto lancio del film? Facciamo. Hai capito, no? Tutto. Semplice. Hai memorizzato tutto. C'è lo scienziato? Hai memorizzato tutto. Mamolo, esce il film, ancora stiamo a fare la presentazione. Allora. No, 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 questo no. Quando ho saputo che c'aveva un amante, non ci ho visto più. Un amante? Ma rifacciamo bene la domanda. Io ci ho capito in cazzo. Ma tu quelli che erano amante ne conosci, allora. A me mi ha chiamato, praticamente, stavo in America, mi ha chiamato Pieraccioni. Mi ha detto, senti, vorresti fare un film insieme a me? Io ti dico, certo, io non aspettavo altro. Se le domande le fa, tocca rispondi un po' per uno, non è che parli solo te. Ma io ho parlato per me, scusa. Eh no, è finita, è finita la boppina. Adesso devo farti la domanda. È la prima volta che lavori con Pieraccioni. È la seconda volta. So contento perché, come hai detto giustamente, è una persona seria, affidabile, sensibile, buona, non ti crea problemi. Vero questo? Sì. Ma noi questo ce lo dicevamo pure fra di noi durante la pausa, quando mangiavamo. Vero? Ma hai detto. Che guardi in macchina? No, so se mi piace. Il mio, si può dire, si può usare un po' un Don, chiamiamolo, un Don Giovanni da Strapazzo, insomma. Che riso, per carità. No, per carità. Che è lui che fa il Don Giovanni. Che riso. Ma quale troione? È la prima. Ma quale troione? C'ha due lauree. Il tuo invece? Io invece sono uno proprio normalissimo. Sono un impiegato normale con una vita normalissima. Lui non mi fa ritorno della ricerca. Infatti il mio non fa ritorno, è drammatico. Stavo tutto a ricerca. Ah, te ne sta rendendo conto che è drammatico? Ah, beh. Perché? Perché? Perché so quello che dico dopo. Secondo me, bel film con tanta umanità, tante risate. È molto divertente, ma oltre a questo ci sono due momenti in cui ci si commuove anche. Voi non fate come me, eh. Ci siamo capiti. L'avete capito? Lanciatemi. Un fantastico di Arai dal 12 dicembre al cinema. Non ho scordato lo zucchero. È vero? Beh, io. A me mi sa che manca il caffè questo. Però il film è dolce, vero? Scravo. Il film è uno po' di più. Ok, ecco. Si, si. Il film è solito. S interessante. Grazie.